Oscar, e vorrei dire grazie a tutte le persone che lavorano con Oscar, che sono ancora più brave di Oscar. Le persone che lavorano con Oscar hanno una caratteristica, che sono persone coraggiosi, ed è una delle caratteristiche che più mi fa essere amico di Oscar, oltre che persona contenta oggi. Lo dico per i giornalisti, Farinetti ci ha provato anche qui, a mandare avanti i documenti di Natè, glielo ha rimandato dietro tre volte in giunta, tre volte, dice ma c'è, fa questa e la delibera di Farinetti, ecco, la rivediamo con una settimana in più, se no ci porta via tutti e due, stante i rapporti che conosciamo. Però Oscar ha con sé delle persone che sono straordinariamente coraggiose e che aprono oggi in Italia, nonostante che non convenga aprire in Italia. L'ultima inaugurazione l'ha fatta a Chicago, o a Istanbul, che è l'ultima? Chicago, Istanbul, Dubai, negli ultimi 20 giorni. Negli ultimi 20 giorni l'Italia ha aperto a Chicago.